Salve ragazzi, eccoci ancora nella nostra giungla isola rimettiamoci in modalità normale, ok praticamente fuori dal video ho fatto un'esplorazione ed effettivamente si, è un'isola nemmeno troppo grande quindi ho preso un po' di cose che potevano essere utili tra cui anche gli arboscelli di Mogano e penso proprio che questa terra la potremmo anche abbandonare poi sicuramente torneremo per addomesticare il gatto che poi si chiama Ocelot vero? ho dimenticato però nel mentre smontiamo tutto e leviamo le tende dovrebbe, spero che, di avere lo spazio ma penso di si raccogliamo tutto raccogliamo anche il letto ecco, adesso una volta che noi abbiamo distrutto il letto non abbiamo più un punto di spawn quindi se disgraziatamente dovessimo morire niente, vabbè, risponiamo sempre nella giungla perché siamo nati qua però insomma ora ci facciamo una barca che si fa in questo modo con delle assi di legno qualsiasi la prendiamo ci riprendiamo il nostro legno e ci riprendiamo anche la crafting table dov'è la mia ascia? eccola qui ho cercato dungeon in giro ma non c'è proprio nulla su quest'isola cioè è carina la giungla ma quando si presenta in modo abbastanza vasto ma così salutiamo la nostra isoletta e intanto ci addentriamo vedete, era proprio un'isola ma però qua ci sono altri altri isolotti, però sono tutte tutte isole tutte isole c'è anche un creeper salutiamo anche il nostro amico creeper che per fortuna non l'abbiamo incontrato nella nostra esplorazione però è come bioma è bellissimo guardate questi alberi come sono alti come si intrecciano è davvero bello sicuramente se la serie va bene penso che qualcosa torneremo a fare qui sicuramente sì, torneremo intanto mi squillano i telefoni succede di tutto mentre registro ma noi non ci fermiamo noi continuiamo senza tregua la nostra registrazione guardate questo è un tempio sommerso con i guardiani che sicuramente andremo ad esplorare più avanti però ci salviamo le coordinate ma quelle pecore sono delle scalatrici allora ragazzi ho fatto un po' di tappe lungo il tragitto per prendere qualche materiale un po' di carbone e adesso ho tutta l'intenzione di andare ad esplorare questo posto quindi prendiamoci la nostra barca cerchiamo di salire e vediamo cosa c'è polli sicuramente purtroppo è sempre complicato arrampicarsi ma ci tocca ci tocca allora un laghetto delle canne non è malaccio questo posto non vedo montagne cosa che invece a me sarebbe piaciuta tanto però nessuno ci vieta di farci un giretto vediamo se troviamo qualcosa e nel caso ce ne andiamo così come siamo venuti intanto vi ricordo se se i miei video vi stanno piacendo di mettere un mi piace di commentare iscrivetevi al canale così supportiamo questa serie appena nata e magari mi interesserebbe molto sapere anche i vostri commenti specialmente riguardo la qualità dei video perché io ero convinto di fare video in HD cioè la risoluzione che sto usando è 1280x720 con un bitrate di 4000 sto dicendo cose a casaccio perché non ho idea di cosa sto dicendo però questi sono i valori che mi compaiono in Sony Vegas tuttavia dopo aver registrato i primi due video io mi sono reso conto che YouTube me li fa vedere a 360p è un mistero non so perché maialino non ti voglio uccidere perché non sono in vena quindi niente ero convinto di registrare in HD ma alla fine non sto registrando in HD vedrò di risolvere il problema poi se qualcuno di voi anche se per il momento penso che sono sempre solo io che guardo questa serie però se dovesse capitare qualcuno che vede la serie vede i video gli piacciono e sa anche darmi qualche indicazione male non fa nel mentre possiamo sentire un elicottero che sta sorvolando chiaramente non nel gioco ma nella realtà sta sorvolando la nostra abitazione il che ci fa piacere perché un po' di rumori di sottofondo servono non basta il microfono da 3 euro con il filo la grafica schifosa ci vuole anche l'elicottero che sorvola a casa è bellissimo qua abbiamo un lupo che voglio addomesticare in seguito sicuramente lo faremo continuiamo a guardare questo posto però sinceramente non mi dice nulla assolutamente nulla intanto mangiamo stiamo morendo di fame come al solito si ci sono fiori alberelli ma non c'è proprio nulla di nulla ragazzi qua penso proprio che ci tocchi ritornare in barca è l'unica alternativa non c'è niente che mi garba quindi torniamo in barca e usciamo da questo posto sperando che qua ci sia una via d'uscita facciamo lo slalom ce la facciamo non ce la facciamo lo sapevo non ce la facciamo allora abbiamo rifatto la barca e ci stiamo dirigendo al di fuori di questa zona sperando di trovare un buco dove tornare in mare aperto ma io buchi non ne vedo parte galline niente si forse di qua si passa vediamo di uscire nel mentre ne approfittiamo e continuiamo ad esplorare niente scendiamo di nuovo riprendiamoci la nostra barca c'è un'elevata possibilità di morire qua da dove si esce no non mi piace proprio questa zona è piatta vedo le stelle ragazzi la cosa si fa complicata ok ecco il mare aperto finalmente siamo arrivati in mare aperto ok ragazzi appena in tempo con una super mega laggata siamo riusciti a metterci sulla barca prima che i mob mi venissero ad attaccare e adesso purtroppo dobbiamo continuare il nostro giro io intanto ci mettiamo nella solita modalità per questa puntata è tutto vi saluto ci vediamo alla prossima vi ricordo mettete un like nel momento in cui vedete questa puntata se vi è piaciuta iscrivetevi al canale ciao ragazzi e alla prossima